Diciamo due eventi principali a Washington, sia l'evento del National Italian American Foundation e NIAF, dove oltretutto nel 2024 Regione Frivenenza Giulia sarà il giorno dell'onore. Poi abbiamo il presentante di investi comitì con due giornate presso l'ambasciata italiana a Washington e oltretutto dovremo anche avere all'arrivo, sempre organizzato dal NIAF, avremo un ricevimento alla Casa Bianca con la Jill Biden, la first lady, con il quale ovviamente incontrerà in questo ricevimento. Poi mi trasfierò invece due giorni a New York per un incontro bilaterale con 6 o 7 aziende. Grazie.